Ciao, sono Vladimiro Leone, sono il team manager del Transylvania Racing Team. È una realtà che nasce dopo una lunga carriera mia personale agonistica, dove ho militato sia nel motocross, nella velocità e poi nella supermoto. A livello internazionale abbiamo fatto diverse esperienze. Sono anche un tecnico della Federazione Motociclistica Italiana, quindi mi piace coltivare questa passione con i miei ragazzi, soprattutto con i giovani, anche con i meno giovani. Quindi questa nuova avventura nasce dopo l'ultima mia disavventura, un infortunio che ha messo fine ai giochi. E quindi ho preso la palla al balzo per trasmettere tutta la mia passione a chiunque ne abbia voglia di imparare e stare insieme. Quest'anno ci siamo schierati nell'internazionale d'Italia con quattro piloti, di cui due nella categoria SM1 e due nella categoria SM4 internazionale. Diciamo che il campionato sta andando abbastanza bene. Abbiamo uno dei piloti dell'SM1 internazionale in vetta alla classifica, quindi speriamo di concludere nel migliore dei modi. Abbiamo fatto qualche apparizione anche a livello del campionato del mondo, quindi adesso cerchiamo di concretizzare il tutto nella fase finale del campionato. Ciao, sono Eric Tesconi, ho 28 anni, corro per il team Transilvania. Quest'anno per me è il secondo anno nella Supermotard. Vengo dal motocross, da quando avevo 5 anni che corro nel cross. Adesso da due anni in questa parte mi sono avvicinato a questa disciplina. Devo dire che è un bello sport e mi sto divertendo molto. Quest'anno devo dire che c'è stato un po' il salto sia di qualità sia per la moto e tutto. È stato un bel salto in avanti. Inizio stagione è partito molto bene a Ottobiano. Adesso è sempre in crescendo, con qualche errorino, però devo dire che sono molto contento di questa stagione. Ci stiamo avvicinando anche a quelli davanti. Abbiamo fatto una gara di mondiali in Sardegna. Adesso in teoria si dovrebbe andare in Spagna. Molto, molto bene. Ringrazio il team, ringrazio tutti. Alla prossima. Ciao, sono Emanuele Maccariello, ho 30 anni, pilota del team Transilvania. Questo è il secondo anno consecutivo che corro per il team Transilvania. e siamo partiti un po' a rilento questa stagione, ma piano piano stiamo crescendo e stiamo cercando di migliorare gara dopo gara. Mi trovo molto bene in questo team. Che dire, spero di continuare con loro. Quest'anno parteciperemo anche alla gara del mondiale in Spagna. Li ringrazio veramente di cuore. Grazie a tutti e alla prossima.